Chiudiamo con il segno dei pesci, questo è un periodo in cui avete davvero tante frecce nel vostro arco, nella vostra faretra e quindi potete assolutamente far centro voi amici dei pesci, con questa luna che transita nel segno dell'Ariete sono le questioni pratiche, le questioni materiali ad essere veste in evidenza, una giornata ideale per ottenere dei risultati tangibili, concreti sul lavoro, possono arrivare delle soddisfazioni anche da un punto di vista economico, questo è un periodo in cui voi siete sulla bocca di tutti, questa è una doppia valenza, è chiaro che molti sono affascinati dal vostro modo di fare e molti possono apprezzare anche le vostre qualità, ma attenzione anche alle critiche che possono piovervi addosso perché chiaramente non tutti possono essere d'accordo con il vostro modo di fare e di pensare, però in questo momento voi avete una grande forza, ve li infischiate proprio altamente di quello che possono dire gli altri, soprattutto in una giornata come questa e siete decisi ad andare avanti per la vostra strada, questo alla fine porterà degli ottimi risultati. bene, allora per